Non parlano inglese né italiano, ma non servono le parole per queste due mamme, bastano i loro occhi. Il russo ci dicono che sono contente di essere arrivate dall'Ucraina a Pescara. Con loro infatti una bimba di 6 anni e un bambino di 10, affetti da patologie o coematologiche che saranno curati in ospedale. Sono ospiti dell'Agbe di Pescara in due dei seti appartamenti dell'associazione impegnata da oltre 20 anni a garantire accoglienza e sostegno alle famiglie dei piccoli pazienti durante tutto il percorso terapeutico. L'Agbe si è attivata da subito per dare ospitalità a questi bambini ucraini. Grazie a un volo della Guardia di Finanza sono arrivati qui. Lei è la piccola che affronta la malattia con forza. Il suo nome? Vitalina. Vitalina, grazie a Vitalina, bellissima Vitalina. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Tania. Tania è arrivata qui con un'altra bambina di 10 anni da Odessa dove la situazione è drammatica, ci dice. Di aver lasciato lì il marito a combattere ringrazia di cuore tutti gli abruzzesi per l'accoglienza e la speranza di guarigione della piccola. Il presidente dell'Agbe, Achille Di Paolo Emilio. Sono arrivate due famiglie, un totale di sette persone. Sono tre adulti e quattro bambini. Due sono ricoverati nel reparto onco-ematologico e gli altri sono ospiti qui da noi. I bambini sono di età dai sei anni ai dodici anni. E sono arrivati ieri? Sono arrivati ieri notte. Un aereo che ha atterrato al nostro aeroporto, partito da Pisa, un aereo della Guardia di Finanza che li ha trasportati qui da noi. Saranno curati nell'ospedale di Pescara? Sì, saranno curati nel nostro centro che è un centro d'eccellenza accreditato via OPP, uno dei migliori centri d'Italia e dobbiamo essere orgogliosi di questo reparto. Noi abbiamo sette appartamenti, attualmente ne abbiamo occupati cinque perché di solito ne lasciamo qualcuno sempre per l'emergenza. Tantissime storie, tra l'altro abbiamo anche una famiglia albanese che è venuta qui da noi da pochissimo tempo ed è venuta qui da noi appunto al nostro centro proprio per curarsi. Attraverso l'interprete ha avuto modo di parlare già con loro? Sì, abbiamo parlato con loro tantissimo, sono felicissimi di essere qui, anche se ci siamo conosciuti da poco, si sono già resi conto di essere in una famiglia. Tra l'altro voi state per ultimare un'altra casa, vogliamo lanciare anche un appello ai cittadini affinché ognuno di noi possa contribuire a questo? Ormai, come dicevo poco anzi, siamo all'ultimo miglio. La nuova casa è quasi pronta, ce la stiamo facendo. Questa casa è nata durante i due anni di pandemia, quindi voglio ringraziare il grande cuore degli abruzzesi, il grande cuore dei pescaresi. Voglio ringraziare anche la regione Abruzzo che ha permesso questo corridoio umanitario, insomma, regione Abruzzo, Sole Terre, Acros, grazie a tutto questo coordinamento siamo riusciti a portare queste due famiglie. Svetlana viene da Nikolaev, altra città martoriata, ci dice che il figlio di dieci anni, Slava, è in ospedale, mentre l'altra bambina di quattro anni, Daria, è con lei. Il marito è rimasto in Ucraina a combattere, ci parla di una situazione drammatica, bombe e vittime tra i civili, ora a Pescara, grazie all'Agbe e ai medici, per restituire speranza in una vita migliore al proprio piccolo, come l'altra mamma, Tania. Grazie a tutti.